Il Giarr è entrato in un momento delicato e difficile, non tanto per la sconfitta di domenica scorsa con il Pedara Sampio X, che calendario alla mano ci può stare, ma in questo momento la cosa che più preoccupa mister Giancarlo Fichera è l'infermeria. Ieri infatti alla ripresa degli allenamenti si è stirato Rosario Patanè e ne avrà per circa un mese. Sarà un'assenza pesantissima per la squadra gialloblu, che dovrà fare a meno nelle prossime gare del suo faro al centro della difesa. Ad Avola mancherà anche un altro centrale difensivo dell'organico, Carlo Di Benedetto, che ha preso una botta. Così prende corpo l'idea di arretrare in difesa Saropatti. Complessi per la trasferta in terra a Retusea anche i recuperi di Alessandro Curcuruto e Daniele Dovara, così come quello di Leo Monte, giocatori questi ultimi tre, che avevano già disertato la gara casalinga di domenica scorsa con il Pedara Sampio X. Grazie. Grazie.